Buongiorno, oggi siamo insieme a Iaia Pedemonte e ci parlerà un po' della sua attività pregressa perché lei ha una grande responsabilità anche culturale verso i viaggi e il turismo. Poi ci parlerà del turismo responsabile e della guida alle libere viaggiatrici in cui è arrivata già la seconda edizione. Buongiorno. Iaia, che ci racconti? Allora, prima di tutto vi posso raccontare semplicemente quello che diceva adesso Caterina del fatto che il turismo responsabile esiste naturalmente come definizione da tantissimi anni, ma poi tutta la derivazione, la coniugazione delle questioni di come fare turismo in modo equo è diventata col tempo interpretata anche dal punto di vista delle donne perché tante associazioni nel mondo e tante università, tante organizzazioni mondiali hanno incominciato a occuparsi del fatto che ci sono tante donne che lavorano nel turismo e quindi ci sono delle esigenze diverse dal punto di vista occupazionale e a me è capitato semplicemente di partecipare a dei lavori sul campo, con dei progetti sul campo con le Nazioni Unite in cui siamo andati, con cui sono stata per un po' di tempo in Yemen per esempio e semplicemente lì concretamente vedevamo come loro stavano facendo un bellissimo progetto di turismo sostenibile e abbiamo un po' visto come poi cercare di inserire le signore arabi che abitavano in questo villaggio, anche se poi comunque dipende molto dal tipo di cultura e di società. Però ho incominciato a capire le differenze delle necessità occupazionali nel turismo dalla parte degli uomini e dalla parte delle donne perché effettivamente nel lavoro ci sono delle differenze e ci sono comunque delle differenze anche nel modo di comunicare, di accogliere proprio per carattere delle donne. E poi anche andando avanti nel tempo ci sono dei luoghi per esempio alla fiera del turismo di Londra o di Berlino in cui fanno proprio delle giornate speciali dedicate al turismo responsabile e dedicate anche alle donne che lavorano nel turismo e quindi lì è molto interessante perché si incontrano esperti di tutto il mondo che hanno fatto magari analisi approfondite sul campo dei problemi che possono avere le donne che lavorano nel turismo eccetera è molto interessante perché si discute appunto la parte di equità e di uguaglianza. Per esempio l'anno scorso, non quest'anno perché non c'è saltato tutto per ovvi problemi, l'anno scorso a Berlino c'è stato anche tutto un grande dibattito sul fatto che nei grandissime fiere del turismo che ci sono in giro per il mondo, quando ci sono i dibattiti sul palco con i grandi personaggi si invitano sempre per primi gli uomini quindi è scoppiato un caso anche nel caso del turismo, sai che se ne discute in tanti campi, in tanti rami, spesso le economiste dicono che non è giusto, le grandi esperte che loro non sono mai chiamate per prime, ed è successo anche col turismo con le donne che hanno protestato perché sono magari in proposti anche apicali o comunque hanno responsabilità o comunque fanno esperienze interessantissime, iniziative interessantissime, però poi a raccontarne in prima persona con il microfono in mano chiamano poi il presidente uomo. Sono tante donne che lavorano nel turismo responsabile mi sembra, no? Nel turismo responsabile sì, più degli uomini sicuramente, ma questo in tutto il turismo comunque in generale, si sa che è un settore che di sicuro piace il più alle donne, ma comunque contandole, io ho fatto dei calcoli approssimativi, considerando che il turismo è un decimo dell'occupazione mondiale, anche un decimo del PIL approssimativamente, bisogna pensare che le donne raggiungono praticamente, potrebbero essere secondo me più di 200 milioni nel mondo le donne che lavorano nel turismo, naturalmente considerando i lavori in senso lato, cioè anche quelli correlati non direttamente al desk dell'albergo, ma anche quelle che fanno magari, non so, le artigiane che poi vendono un prodotto che poi viene rivenduto ai turisti, quindi insomma è senso lato, però sì, ce ne sono tante, spesso si fanno anche sentire, fanno associazioni, proteste, a seconda di quello che serve, in vari casi c'è stato un grandissimo caso, molto interessante adesso con i problemi del Covid, ma semmai magari ne parliamo poi con un'altra, in un argomento, in una sezione specifica di questa intervista. No, raccontaci qualcosa per il Covid. Allora, ovviamente non sto a ripetere il fatto di quale tipo di crisi possa essere stata il Covid, e si è parlato tantissimo del tipo di crisi per le donne col Covid, adesso il problema del lockdown è relativamente finito, ed è rimasto quello della crisi economica, e si è dibattuto tantissimo, come sapete, che appunto del problema che le donne non sono abbastanza chiamate a prendere delle decisioni, quando si parla di esperti, nel fatto che sono state in casa chiuse, sono state quelle che hanno dovuto gestire tutto, la violenza domestica, adesso non sto a elencare quello che non è correlato direttamente al turismo, però quello che è importante è che siccome poi è derivata appunto una crisi economica, fai conto che si parlava a un certo punto di metà forza lavoro nel mondo del turismo in crisi, per cui tipo a livello di 100 milioni di posti, un milione di posti al giorno, in alcuni paesi già c'era il 90% della popolazione, alcuni piccoli paesi asiatici all'inizio della crisi del Covid, in cui alcuni piccoli paesi che magari si basano molto sul turismo, avevano tipo già il 90% di disoccupazione, e soprattutto il 90% di questi numeri erano donne, perché appunto sono quelle... lavorano nel turismo. ...ando alla catena, sì, per cui l'impatto del turismo sulle imprese, sui lavoratori, appunto la maggior parte donne in quanto segmenti più vulnerabili, perché hanno magari piccoli business di famiglia, perché appunto sono magari artigiane, sono spesso meno pagate, che non sono specializzate, fanno dei tipi di lavori che sono più part-time, più stagionali, quindi già normalmente sono nella grande massa, sono più donne che uomini, quelli che fanno questi tipi di lavori. Semplicemente anche lavori del tutto normali e dignitosi, come semplicemente pulire le camere in alta stagione negli alberghi. però appunto spesso in questo modo sono magari meno... Sono stati più colpiti dal Covid, perché hanno meno quadrati... ...e quindi di conseguenza le donne lavorano nel turismo, che sono tante. Per cui in molti paesi il 90% dei disoccupati, per il fatto che non erano più arrivati i turisti, erano donne. Anche in Italia, per esempio, si sapeva già che un albergo su quattro non avrebbe riaperto, almeno ora siamo, non necessariamente in agosto, ma parlando in generale da Pasqua in poi, e che se in Italia avevamo perso tantun milione di turisti in quel periodo lì, della scorsa primavera, poi calcoli per l'estate li faranno, però si sapeva appunto che, come dicevo prima, il grande 80% delle persone che rimanevano, che avrebbero avuto problemi per queste chiusure, erano donne. Poi c'è da dire che molte si sono fatte coraggio, hanno riaperto, e poi vi racconterò anche che noi abbiamo fatto una campagna per il mio sito interessante sulle donne che riaprivano, ma comunque è stato molto interessante durante il Covid parlare del... Durante la chiusura però, parlare con donne in tutti i paesi del mondo, perché erano in casa che non stavano lavorando, e a seconda dei paesi era molto interessante vedere come riuscivano a riorganizzarsi in qualche modo, magari facendo altri lavoretti, o invece erano semplicemente preoccupate, perché non sarebbero arrivati i turisti, non so, dei bed and breakfast italiani, o gli agriturismi italiani, erano molto preoccupate, perché effettivamente se sei in Toscana, e se non ti arriva neanche un turista, non hai tantissime alternative di lavoro, mentre una signora in Islanda mi raccontava che comunque lei aveva le mucche, si occupava dei cavalli, o un'altra in Peru, mi raccontavano che avevano niente, che andavano, vivevano come le loro nonne, come prima dell'era del turismo, per cui stavano tutto il giorno nei campi per coltivare le patate, ed erano abbastanza rassegnate, rassegnate alla povertà, si può dire, è ovvio, sarebbe un discorso da approfondire, però era interessante vedere il tipo di reazione. In Africa, per esempio, ho parlato con una ragazza simpaticissima nel Benin, che ha un'associazione che si chiama Eco Benin, e loro fanno tantissimi viaggi, soprattutto per i francesi, nella foresta, eccetera, e lei era lì nel suo ufficio, con il suo fiocco rosso e Gianno in testa, e la mascherina, e mi raccontava che niente, che i turisti non ce n'erano, ma che comunque, insomma, loro in qualche modo sopravvivevano, erano una grande famiglia, stavano in campagna, e quindi è stato molto interessante parlare con noi. Senti, invece ci vuoi parlare della tua guida del Libri Egetrici? Allora, grazie, sì, dunque la guida delle Libri Egetrici, è arrivata il secondo volume, stiamo preparando adesso, ed è un libricino, una guida attascabile di articoli, di informazioni abbastanza curiose, in cui andiamo a cercare dei posti che possono piacere alle donne, o comunque in cui ci sono delle imprenditrici che fanno delle iniziative interessanti, importanti, attenti all'ambiente, attenti all'occupazione femminile, anche attenti alle novità, poi suon'essere di sport, di cultura, ma che comunque sono delle signore, delle donne, e quindi hanno, in questo modo, diciamo parlando di loro, aiutiamo l'occupazione femminile, e sono quindi viaggi in tutto il mondo, che noi andiamo a cercare, per cui io racconterò che cosa fa, per esempio, la ragazza nel Benin, o quell'altra in Islanda, la guida esce in autunno, quindi varrà, ovviamente, per l'anno prossimo, per fortuna, per l'anno prossimo, quindi speriamo che non ci sia più crisi, e quindi, niente, andiamo a indagare, qua e là, saltando per il mondo, dove ci sono delle donne che fanno delle iniziative interessanti, che non sono riservate, ovviamente, alle donne, perché può essere... Non sono le donne? No, può essere... Anzi, sono donne che magari amano viaggiare con le amiche, o con la famiglia, o col fidanzato, e ci può essere la canoa, piuttosto che lo yoga, piuttosto che appunto, nel Benin, vai a vedere la foresta, vai a vedere i paesi, in cui fanno ancora, ci sono ancora i maghi, come si chiamano, i santoni, i sacerdoti del voodoo, e queste cose qua, per cui, non è che debbano essere donne quelle che ci vadano, però diciamo che c'è spesso un tocco, io in genere chiedo, ma quando vengono lì dei gruppi di signore, che cos'è la cosa che gli piace di più, e così loro mi raccontano, vanno a camminare nel fiume, piuttosto che fanno il pane, queste solite cose qua, e certamente, la maggior parte poi, delle donne che lavorano nel turismo, sono cuoche, o cameriere, manager, molte, però insomma, si cerca in tutto il mondo, di trovare delle mete interessanti, in modo da aiutare, le donne che lavorano nel turismo, ma anche fare dei viaggi, pensare a dei viaggi un po' originali per le viaggiatrici, al di là di... Ma piace più le donne quando viaggiano? Ma, certamente, fare delle cose in gruppo, vanno in, non so, per esempio in Canada, c'è un posto stupendo, nella foresta, che ho intervistato le guide lì, delle ragazze guide, che mi raccontavano che all'inizio sono tutti dubbiosi, per il fatto che loro sono ragazze, donne, bisogna portare a vedere, a cercare gli orsi, che possono essere pericolosi, per cui non si fidano tanto, in genere però, le donne viaggiatrici, cioè le loro, le turiste, diciamo, le loro clienti, sono le prime a fidarsi di loro, e amano tantissimo, anzi, come se condividessero dei segreti, l'idea di andare a fare delle fotografie, in certi punti particolari, cercare una storia magari di una pianta, di un fiore, piuttosto che argomenti che riguardino gli animali, o comunque sono più curiosità sul terreno, più gli uomini hanno più, magari più curiosità, più generali, politiche, economiche magari, ma poi, in fondo, è un po' quello come siamo poi normalmente, quando chiacchieriamo anche con gli amici, e quindi è divertente. Però ci sono moltissime donne che piacciono, proprio da sole. Sì, ce ne sono tantissime, oddio, speriamo che possano continuare a farlo, e si stanno moltiplicando, infatti, anche le attenzioni per loro, magari negli alberghi, o le associazioni. Spesso, devo dire che incontro, quando presentavo la mia guida, la prima guida delle Libri Viaggiatrici, l'anno scorso, tantissime donne che venivano ad ascoltarmi, si lamentavano che in tanti paesi, invece, non ci sia, loro per sentirsi sicuri, avrebbero voluto magari dei posti, degli alberghi, degli bed and breakfast, degli ostelli, in cui sentirsi sicuri, quindi, qua, minima attenzione sul fatto che, non so, la camera può essere magari più vicina alla reception, per cui se urlano, faccio un esempio, qualsiasi, se uno si ha bisogno di aiuto, di notte, si sente prima, oppure, gli orari, oppure, sì, il fatto di dare, magari, il numero di telefono o no, la chiave, cioè, tutte cose molto concrete, in genere, si lamentavano di questo, piuttosto che, non poter lasciare lo zaino pesante, andare a fare un giro, magari, non ci sono le stanze, in cui loro possono lasciare lo zaino, erano sempre cose concrete, ovviamente, e per me era interessante, e amano, sì, viaggiare da sole, lo danno per scontato. Anche a me piace molto viaggiare da sole, piaceva adesso un po' meno, perché, insomma, quando hai famiglia, viaggi anche in compagnia. Senti, se qualcuno volesse, cosa si potrebbe fare, come network di dolls? Perché tutte le persone che sto intervistando, sono persone che io, aspico, abbiano interesse a creare un network, con le altre persone, del network di dolls, delle altre donne, e uomini, invece sono anche degli uomini. Cosa si potrebbe fare con te? Forse, non so, forse condividere semplicemente, con i nostri post, le nostre normali comunicazioni, che facciamo tra noi, per esempio, per quello che riguarda me, in un certo senso, io rappresento le donne che lavorano nel turismo, per cui, non sono io direttamente, che devo essere coinvolta, per quello che riguarda me, ma per quello che io posso fare, per le donne che lavorano nel turismo. Per esempio, sul mio sito, noi abbiamo incominciato, una serie di pagine, che si chiamano, offerte speciali, per le libere viaggiatrici, per esempio, e sono le iniziative, che le donne imprenditrici, che hanno, che so io, vogliono fare uno sconto, alle viaggiatrici, che vanno a trovarle, per visitare una città, dormendo nel loro bed and breakfast, piuttosto che guide, che magari vogliono offrire, una parte di tour, o un'accoglienza particolare, e questo è per le libere viaggiatrici, in quanto proprio, categorie, cioè come se fosse un club, chiamiamo così, per intenderci, anche se non lo è, e in un certo senso, si potrebbero coinvolgere, le persone che seguono, comunque, Dolls, perché semplicemente, andando nel sito, che io faccio, vedono le offerte speciali, delle signore, che lavorano nel turismo, e quindi, qual è il titolo del sito? Io diciamo, potrei fare una specie di tramite, no? Tra donne che lavorano, e pubblico, diciamo così, e il mio sito, si chiama, Gender Responsible Tourism, e su, nel web, è, semplicemente, la sigla, G, trattino, R, trattino, T, e questo perché, è un nome un po' difficile, ma, quando io avevo provato a cercare, dei nomi, in italiano, con donne, viaggi, eccetera, venivano poi, alla fine, venivano sempre fuori, i siti porno, mentre, Gender Responsible Tourism, è proprio, la definizione, tecnica, che usano, le università, dove hanno dei corsi, dove studiano turismo, hanno proprio dei corsi, degli esami, dei docenti, con la materia, proprio che si chiama, Gender Responsible Tourism, e quindi, GRT, comunque, se uno va, anche sulle pagine Facebook, Libere Viaggiatrici, abbiamo poi, i riferimenti, e su Libere Viaggiatrici, sulle pagine Facebook, abbiamo anche, fatto una campagna, con quelle che aprono, cioè, man mano, che, dopo il Covid, delle imprenditrici, hanno incominciato, a riaprire le porte, c'erano quelle, che avevano giardino, e invece, che mangiare nel ristorante, facevano picnic, nel loro parco, e così via, mille, hanno preso, mille iniziative, quelle che hanno fatto, soltanto, di passeggiate in campagna, ce ne sono tantissime, e sono tutte, per esempio, senza bisogno, di andare su GRT, si può guardare, su Facebook, la pagina, dei Libere Viaggiatrici, oppure, sempre, naturalmente, la pagina GRT, su Facebook, Gender Responsible Tunes, e lì, ci sono, appunto, le offerte, delle imprenditrici, che vogliono, accogliere, le viaggiatrici, con delle idee diverse, oppure, semplicemente, l'elenco, di quelle che hanno, riaperto le porte, al turismo, cercando, appunto, di lavorare, quest'estate, e quindi, insomma, i collegamenti, sono tanti, e poi, semplicemente, se ci rinchiamo, se ci rinchiamo, con il sito di Dolls, che almeno, c'è un nome, facile da ricordare, senti, se qualcuno, ti volesse scrivere, direttamente, tu saresti disponibile, a rispondere, alle loro domande? Sì, certo. se qualcuno vuole scrivere, direttamente, perché vuole andare in vacanza, da qualche parte, dove ci sono le libri, qualche notizia, si può parlare con te, posso girare, sì, la mia, sì, in genere, non, non è neanche necessario, perché, magari, uno vuole guardare, le mete, più di cui io parlo, comunque, certo, se uno vuole proprio chiedere, esattamente, precisamente a me, può mandarmi un messaggio, sulla pagina Facebook, come Iaia, le monte. D'accordo, senti, ti ringrazio, buone vacanze, speriamo che, turismo responsabile avanzi, sempre di più, anche perché adesso, i tempi sono maturi, ma forse un tempo, non lo erano, ma adesso sì, e, e a presto, grazie. Grazie mille, grazie mille, ciao, ciao Caterina, grazie, ciao. Ciao.